...parto intervento, contributo, un contributo, un po' di citazione. Prego. Allora, D'Evo Tavici, collega giornalista, grazie. Pochissime parole, io sono qui solo per portare il mio saluto e il mio auguri a questa iniziativa, al direttore, a chi l'ha sostenuta. Già vengano tutte le iniziative editoriali, servono a realistire l'informazione, servono a realistire il cambio di cultura, lo cambio di formazione e l'informazione. Quindi, lo diamo a questa iniziativa, speriamo che abbia una lunga durata e infatti mi auguri al direttore e tramite il mio auguri a tutti i componenti della rosa. Buona giornata. Se non ci sono altri interventi, allora, credo che nasca sotto due artici questa iniziativa. Non so, perché c'è un fatto, ma bene, sembra qualcosa di diverso. Sembra. Come diceva Tango, speriamo poi nel corso dello svolgimento, di un'iniziativa, se le attenze saranno sospate, ma credo proprio di questo. Nel frattempo abbiamo il piacere di visitarvi a un piccolo gruppo. che abbiamo organizzato, non si hanno preparato, si servono. Quindi, se volete accomodarti, grazie a tutti. Buon anno. Grazie.